Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. La riapertura del caso del rapimento di Denise Pipitone è stata annunciata da Federica Sciarelli nell'ultima puntata di «Chi l'ha visto?». Dopo quasi vent'anni, è stato lui, il padre di Denise, Tony Pipitone, a presentare nuove consulenze nella speranza di far luce sulla scomparsa della bambina avvenuta nel 2004 a Mazzara del Vallo. Secondo quanto riportato da un noto giornale, Tony, il padre legale, ha presentato al Tribunale di Marsala delle consulenze redatte da esperti di alto profilo nel campo delle investigazioni. Anche se il contenuto specifico di queste consulenze non è stato reso pubblico, è evidente che mirano a portare nuove prove sul caso. Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio, ha contattato questi esperti nella speranza che, nonostante siano passati quasi vent'anni dalla scomparsa della figlia, ci siano ancora possibilità di ritrovarla viva. La recente scoperta di microspie nella casa di Piera Maggio che non sembrano essere state piazzate dagli inquirenti vent'anni fa, ma piuttosto da qualcun altro interessato a monitorare la famiglia di Denise. La riapertura del caso e il coinvolgimento di nuovi esperti potrebbero finalmente portare a delle svolte significative. E voi, cosa ne pensate, credete che si possa ancora ritrovare Denise, dopo così tanto tempo? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore. Grazie. Grazie.